Come hanno reagito i mercati nazionali al nome di Mario Draghi come possibile futuro premier? Quali sono i titoli che nei giorni scorsi hanno registrato le performance più significative? Per scoprirlo ci affidiamo a Fabio Tanevini, editorialista di Il Lungo Corso di LombardReport.com. Come sempre noi vi ricordiamo di seguirci su LombardReport.com ed iscrivervi al nostro canale per restare aggiornati su tutti i nostri contenuti. Il Futsimib continua a seguire il trend rialzista che ha caratterizzato l'intera scorsa settimana. Venerdì l'indice aveva chiuso la seduta rompendo quota 23.000, per la precisione fissandosi a 23.083. Questa mattina in apertura l'indice ha inaugurato la settimana spingendosi oltre quota a 23.200 punti e chiudendo a 23.425. L'incarico conferito a Mario Draghi, chiamato dal presidente Mattarella a formare un nuovo esecutivo dopo la caduta del governo Conte II, ha avuto un immediato effetto positivo sui mercati italiani. Come evidenzia a Fabio Tanevini nel suo editoriale, pubblicato domenica su LombardReport.com, a registrare i maggiori rialzi sono stati Autostrade Meridionali e Algovat. Tanevini osserva anche una crescita dei prezzi sul mercato obbligazionario ed un ritorno del calo nei rendimenti, influenzato dalla fiducia nei confronti dell'ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Ma ora diamo un'occhiata nel dettaglio ai titoli segnalati da Tanevini, vale dire Autostrade Meridionali ed Algovat. Partiamo da Autostrade Meridionali, che aveva chiuso la scorsa settimana a 25,5 punti e questa mattina in apertura ha subito raggiunto il massimo registrato nella seduta precedente, ovvero 26,1. La seduta odierna si è poi conclusa a 28,8. Autostrade Meridionali ha registrato una performance del 60% in 5 giorni di mercato aperto. Algovat invece questa mattina ha aperto a 0,450 e dopo aver raggiunto il massimo a 0,470 è andata in calare fino a chiudere a 0,415. In mattinata il titolo era anche stato sospeso per eccesso di rialzo. Borsa Italiana ha comunicato che da oggi fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarie della società non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo. Su un arco di tre giorni di mercato aperto, dal movimento del 4 febbraio, Algovat ha registrato una performance del 34%. Il nostro video termina qui ma noi vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti video.